accettiamo benvenuti in questa cagata di gioco allora toilet time per iniziare bisogna fare play no oddio oddio non fai ridere in realtà oddio ma questo qua sarà tipo un bonus giornaliero no normale ho tirato un budino chissà come c'è finito là dentro un altro un panino intero ovviamente degli occhiali anche ovviamente qualcuno che forse ok allora deve fare start poi c'è il museo con lecce ok quelli sono ogni tre posso posso chiedere una stura cessi ok allora la musica la posso togliere oh finalmente aspetta aspetta c'era anche la lingua vediamo che curiosità no giustamente posso andare non importa che cambia sto rumore allora play pubblicità allora devo dire che la pubblicità anche se si è apparsa all'improvviso fastidiosissima l'ho potuta togliere in poco tempo allora facciamo start anzi no non so se qua le chiavi ho capito ma facciamo start anzi no ma non ho capito ce l'ho fatto vero sì ok ok squish oddio che schifo ma che schifo no aspetta non l'ho capito è giusto ok basta a livello 5 oddio ah quello vuoto quelle sono le vite quando sbaglio c'è tutto questo mentre sono assoluto sulla tazza non c'era diventa sempre più veloce mi è sembrato che schifo però quello vuoto tutti i maschi ho sempre più veloce no va bene allora penso che si sono sbloccati delle nuove modalità minijoghi oddio mi ha dato due a sto ragano ah ecco pure una sedia va bene allora eh vabbè allora museo una chiave non ho capito oddio ok va bene allora next goal 12 come dice cover up no vabbè almeno sono diversi vabbè diversi ancora ogni volta che riparzi da capo vabbè 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 Oh Noi, 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 noi. mi sto quasi abbeduando 17 e vabbè ok ok vabbè ci sarà un'altra modalità scopritele voi perché io veramente mi faccio desturare qua ok tostapane vabbè ok la baciura perfetta grazie a tutti